E noi eramo quattro, eramo fatte solo e mi ha fatto la mia mamma. E poi mi venivano la nonna e il mio nonno. E stavamo andando a cantare. La guerra, che vi ricordate? La guerra che mi ricordo. Mi ricordo che passavano la parecchia e non dovevo mai... Gli anni lavoravamo e non dovevo mai solo là sopra, pure i tagliarini. C'erano i tagliarini. C'erano i tagliarini, e quando arrivavano il mio marito non c'erano la casa. E non dovevo quasi vent'anni. Anche di più, sì. Andavamo all'aria, giocavamo, giocavamo. Poi ne fanno i sparrastaiti. E poi venivano i sparrastaiti, e io non vanno a casa. E quando venivano i festi, Natale, che facevo? Ah, che facevamo? Facciamo i cipoli e mangiavamo. E i pretani? Puri facevamo. Mentre noi facevamo ora. Ma tanto facevamo tutte le cose. Ma quando andavamo, lavoravamo, e giovavamo fuori, ma quasi facevamo però. Aveva amare la mamma, e io dice la zia che non voleva fare i suoi saluri. E se facevamo una ricetta, venite, caccavara facevamo una stampa di pasta e stiamo mangiando. Bello, bello. A Ginestra, come lavoravo? A Ginestra, erano in Natale, Tano Prato. Allora io come già andavo tagliavo, la buona, che è già dritta. E poi facevamo, e facevamo, dicevamo che non c'è romola, e facevamo tante, quattro, nuova giorni. E noi andavamo, andavamo tagliavamo, andavamo a Chomara, andavamo a Karzara, poi andavamo, e poi facevamo quattro, e facevamo, e facevamo, e facciamo, vece, duze, che d'anni, e poi andavamo a moro. Dopo 8 giorni, io attraccavo un'altra rina, se non era buona, allora si spendava, se non restava, e lasciavamo un altro giorno. Se no quando io attraccavo, appunto di montare l'acqua lavavo, non facevo mai niente.